appuntamento assolutamente da non perdere ex promotori allora ciccio quest'anno tantissime novità prima su tutte cambia la location si riparte da zero non saremo più a pisa ma siamo a ponte d'era quindi sempre nella provincia di pisa leggermente decentrati comunque tanti tanti piazzali per gli spettacoli come sempre spettacolari e gli spettacoli saranno sempre quelli che arricchiranno il tutto e poi ci saremo noi anche la domenica ricordiamo soprattutto le date questo è fondamentale dal 25 al 28 aprile esatto 25 28 aprile la nostra data storica per non male sempre la fine di aprile prima di maggio oramai sono otto anni che proviamo a lottare bisogna continuare quindi noi vi aspettiamo per tanti spettacoli spettacolari i like i like